Cambiamo argomento, una situazione che crea malumori, ritardi e slittamenti, quella denunciata dal consigliere del Comune di Campobasso, Francesco Pilone, in seguito all'assenza della maggioranza assoluta per l'approvazione dell'importante provvedimento della tangenziale Nord. In seguito all'approvazione del progetto relativo al potenziamento della tangenziale Nord di Campobasso, l'esponente di coalizione civica dell'amministrazione di Palazzo San Giorgio, Francesco Pilone, ha denunciato una grave situazione politica, evidenziando una spaccatura nella maggioranza del governo del capoluogo di Regione. Detto sia in aula che poi l'ho dichiarato sugli organi di informazione, sono rimasto stupito di questo entusiasmo da parte del sindaco per questa ritrovata compattezza. Voglio solo ricordare che il provvedimento è stato votato con 16 voti, due dei quali dell'opposizione, il mio convinto per un'opera importante che darà lustro ma anche sviluppo in termini infrastrutturali e sulla mobilità, la città di Campobasso. Però politicamente il sindaco deve prendere atto che erano assenti otto consiglieri comunali, l'hanno votato solo in 14 su una maggioranza di 22, lui compreso, e non ha avuto neanche la maggioranza appunto strutturale dell'assise che è a 17, quindi è un fatto politico serio. Il mancato raggiungimento della maggioranza assoluta avrebbe reso l'atto non eseguibile nell'immediato, facendo slittare di ulteriori 15 giorni l'efficacia esecutiva del provvedimento. Una situazione di divergenze assenze dunque che determina malumori, ritardi e ulteriori slittamenti che pesano sulla società. Io vorrei dire ai cittadini di Campobasso, se mi dicono in quasi quattro anni di amministrazione, quale grande opera o anche piccola opera in termini infrastrutturali è stata progettata, o dico anche solo inaugurata, dal sindaco Battista e da questa maggioranza di centrosinistra. Noi siamo pronti, come centrodestra, per prendere le redini di una città che ha bisogno di uno slancio, con l'ospicio che le cose indubbiamente con noi cambieranno.